Allora, ragazzuoli, ragazzuoli, giuventini e non giuventini, perché in tanti guarderete il video anche non giuventini sicuramente, ma io di oleosio a me stanno. Allora, intanto, ciccio, cioè, di piscianne video, pisci a casa tua, tranquillo di la porta, non ci fa sentir rumore, fai che cazzo ti pare, c'è questa roba, ti ricordo che su YouTube non ci siamo solo noi vecchietti, c'è anche quelli giovani che per lì ci ridono alle minchiate che fai, ma poi ti emulano e la gente fa video e pisci, la gente fa video e rompi, quindi, primo fa la fia, cioè, tu cai sempre fuori dai vaso, amico mio. Io, per carità, e mi costa anche dirti queste cose, perché solitamente non sono una persona che va a cercare il pelo nell'uovo, ma te tu sei una sciocca nell'uovo, tu sei un pelo, quindi qualsiasi cosa tu fai, tu cai sempre fuori dai vaso e tu vai a parlare di Napoli, in Napoli, perché? Perché ora ti fa un problema, ah, in Napoli è scudetto meritato, non è uno scudetto falsato, come è uno scudetto falsato? Oh, ma sei giuventino o sei solo un pisciatore, o uno spaccatore di cessi, oltre al spaccatore di minchia ultimamente, perché sei dappertutto, cominci a far venire veramente la nausea, ma fai complimenti a Napoli in cui modo la gente ti scrive sotto, ti risponde nei commenti, ah, te sì che sei un tifoso onesto, dici le nausea come stanno, perché stai perdendo, stai perdendo gli iscritti giuventini, gli iscritti gobbi, quelli veri, quelli che vanno allo stadio, quelli che si guardano la partita a casa e la tifano, quelli che odiano Allegri nel senso sportivo, ma che fino a che c'è lui tifano anche lui, chi se ne frega di chi c'è sulla panchina, io tifo i colori, se poi tu mi ci metti Pippo Vaudo, io dirò forza Pippo Vaudo, se gioca male dirò che ha sbagliato, se fa giocare bene la squadra dirò che ha fatto bene, ma non per partito preso. E poi, mamma mia, mamma mia, sempre con queste cose scurrile, proprio tu sai, io, mamma, non ti fa pena quando ti guardo allo specchio, non ti fai pena un pochino. Vabbè, detto questo, ti vanno via gli giuventini, acquisti napoletani, interisti, eccetera, eccetera. Bravo, 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 grandissimo, dai un buonissimo esempio, mi dici te, io sono padre di famiglia. Madonna, auguri amico, auguri.